Ancora immigrati in albergo, questa volta capita in Romagna, come commenta la notizia? Negativamente, come tutte le cose forzate che stanno capitando in questo paese, solo disclusivamente perché qualcuno deve far cassa o deve speculare su quelli che sono all'arrivo dei clandestini. La cosa che lascia veramente basiti è che si sia potuto pensare da parte della prefettura di Ravenna di emettere un bando per collocare 40 persone in una realtà collinare, come quella di Casolo Valsenio, in una realtà che conta poco più di 2000 anime, andando ad inserire 40 persone nelle quali non si sa assolutamente nulla, che probabilmente, come succede già da tempo, alla verifica non sono assolutamente profughi, ma sono semplicemente clandestini che magari ci ritroviamo a vendere merce contraffatta in spiaggia, come è successo settimana scorsa in un'altra località. Noi abbiamo fatto un appello al prefetto affinché annulli questo bando e tenga conto anche della necessità di non essere impattanti nei confronti delle comunità, soprattutto quelle piccole e soprattutto quelle più lontane ai grandi centri urbani. Facciamo un appello al buonsenso del prefetto di Ravenna, anche se sappiamo che ha indicazioni assolutamente ben specifiche da parte di Alfano, però, così come ha detto il governatore Zai e il governatore Maroni, in qualche modo anche i prefetti vivono in un territorio e devono avere il coraggio di ribellarsi alle cose che vanno contro il buonsenso prima che contro la legge.